Ciao a tutti ragazzi, siamo ancora qui su Mario Galaxy Ehm... E... Eravamo arrivassi nella galassia Ape E andiamo a scoprire Un'altra... Allora, stiamo montando nella stessa galassia E nello stesso posto, ma forse avrò cambiato qualcosa Allora, nuova Strani eventi sulla torre Ok, ciao Billy Ok Allora, guardiamo allora, c'è sempre il 6, c'è sempre la vita Però prendela Allora Andiamo a prendere il maio Ape Oddio Boa Non so se si prende No, va qua E' bu Lo so come si fa Ape Non devi diventarmelo L'ho inventato io Brutto Come hai detto Sbacchiamo tutto Per vedere se c'è qualcosa C'è solo una moneta? Ok, non la prendiamo Noi, ci non so fai C'è solo una maio C'è solo una maio Пап과 Papi Pappa Ape Pappa 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 Maia Pappa Pappa Scusate per gli eccellenzi ma stavo parlando con mia mamma. Adesso mi hanno preso 65 astroschece. E' venuto un ponte a caso. E' più concentrato, fantastico. Adesso sono caduto. Adesso ho chiesto male, si viene fino a casa su Dorigo che porto i sentieri. Io conosco anche lui. Ti devo 50 franchi. Allora, cosa avevamo fatto prima già? 5 triom Maria Giovanna. E' fatta l'empedù. Allora, adesso non mi ricordo cosa mi ha fatto prima. Ah, mi ricordo. C'era una pianta che è vicino qui. Ecco, credo che questa. No, non era questa. Allora, vuoi dare una mano o sei cattiva? Cioè, sei cattiva. Andiamo a fare delle cose. Ma ci sarebbe una pianta qui, no? Ah, giusto, la vita. Mi ero dimenticato dalla vita. Allora, prendiamola. Basta che non cadiamo. Perché se cade siamo nella cacchia. Basta che non c'erano nessuno. Ecco, andiamo a fare delle cose. Ah, ok, non me lo ricordavo. Adesso prendiamo questo qui. Come? Come sono caduto? No! Non si può! Ok, adesso non mi ricordo. Ah, abbiamo sedici vite così? Wow. Allora, saliamo, 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 saliamo. Ma perché? Io non capisco il perché. Allora, la prima la faccio bene. Allora, la seconda. Allora, la terza la faccio male. La sette è la vita. E la vita, la vita. È bella. Allora. Ciao, Aki. Ah! Aia! Maledetta! Maledetta! Non ho capito il senso. Ok? Uno. Due. Tre. Quattro. Andiamo a volare. Aia! E dai! No, non voglio rischiare la vita Andiamo Attento io ti lascio vivere, Bruca Anche se sei cattivo C'è un ragazzo, sei innocente Oddio C'è questo per morire Ma Se andiamo Aspetta cosa c'è scritto Salve Lo sono Io sono Il formello Se vuoi scalare questo muro Se vuoi scalare questo muro Apri bene le orecchie Quando tocchi un muro Dopo un salto Premia per saltare A parete Parete Ok Con una serie di salti A parete Potrai raggiungere Posti molto alti Ok Ok Intanto mi ha già fatto questo percorso Che neanche era difficile Allora 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 Parliamo una cosa Ci vedete qui Andiamo a fare in giro Allora Cosa dobbiamo fare qui A cambio di Come si dice Cambio di Non mi ricordo Non mi ricordo Cosa dobbiamo fare qui No Non mi viene niente Perché dovrei prenderlo Scusate Non sono cattivo Come tutti gli altri Quando andiamo Andiamo Aspetta No Ok Siamo salvi Penso che dovevo ricominciare Tutta la casa Aia Ma E dai Ah Spavento Ho fatto prendere un colpo Pianza che mi hai dato Augura Augura Pianza che mi fa L'ho visto solo ora Che come c'era qualcosa E tu Mario Si ho preso un'energia Che ti dà Altre tre vite Quindi L'ho presa E mi ha dato ancora tre vite Quindi ci non sei di vite Ma ciao E dai Stati un attimo Oh no no E' lì c'è più veloce Freddo Credo che non mi abbaccia Questi qui Oh no Ti sei arrabbiato Tanto ti devo Solo sciaccare in testa Sei morto Ok Oddio Oddio Sì saliamo in gioco Salva in corso Sì ok Ok Ragazzi Se vi è piaciuto Questo Video Mettete un bel link Un like E Se non vi è piaciuto Non lo mettete Decidete voi Se vi è piaciuto Vi è piaciuto Se non vi è piaciuto Non vi è piaciuto Ok Ci vediamo al prossimo video Ciao raga Ciao Grazie.